Un buongiorno a tutti, bentornati al corso di HTML, quest'oggi andiamo a vedere come inserire in HTML le grafiche vettoriali. Allora andiamo a parlare di cosa sono le immagini vettoriali, ok, la differenza tra un'immagine rasterizzata e credo vettorializzata, non vettorizzata, perdonatemi, e poi andiamo a vedere come aggiungere le SVG con l'elemento SVG oppure con l'elemento IMG, qua ci sono i pro e i contro e dopo li leggiamo. Allora, che differenza c'è tra un'immagine vettorializzata e un'immagine di altri tipi? Allora, l'immagine vettoriale è un'immagine, qua dice, che è utile in diverse circostanze, ok, hanno un piccolo small file size, quindi occupano poco, però sono altamente scalabili e non diventano pixelate, vi faccio l'esempio. Se noi prendiamo, quindi andiamo a vedere la differenza tra immagini rasterizzate e vettorializzate. Allora, le immagini rasterizzate sono bmp, png, jpg e gif. Allora, queste immagini significa che hanno, quando voi fate salva come png o jpeg, il numero di pixel è quello, quindi se per formare questa immagine sulla destra servono 200-300 pixel sono quelli, se voi zoomate restano quelli. Infatti questo è l'esempio, vedete qua è una jpeg o png probabilmente, nella sua forma, nella sua dimensione ottimale, e qua invece se proviamo a zoomarla, ok, questa è png, scusatemi, questa è un'immagine, questo è un vettoriale. Vedete che noi allarghiamo le dimensioni, l'immagine normale diventa pixelata, questo perché il numero di pixel è uguale, mentre invece l'SVG non è pixelata perché mantiene la sua forma, quindi più noi la aumentiamo, automaticamente i pixel vengono inseriti, ok? Si adatta a quella che è la grandezza dell'immagine, quindi vengono inseriti, sappiamo che da qua a qua è dritto, ok? Non importa quanto noi la facciamo grande, lui sa che dal punto A al punto B è dritto e quindi ci va automaticamente a inserire dei pixel, ok? È così che funziona. Quindi le immagini, la sensibilità abbiamo detto che hanno un numero di pixel fisso, mentre invece le immagini vettoriali sono scalabili perché non hanno un numero di pixel fisso, ma hanno semplicemente dei punti da tracciare. Andiamo avanti e vediamo come inserire, intanto questa è la pagina che vi ho preparato, vediamo come inserire le SVG. Possiamo inserirle come immagini, ok? Quindi img, src, io qua ho fatto rettangolo.svg, quindi lo vedete. Un SVG altro non è che codice XML, non ve l'ho mai parlato di XML. Se lo volete scrivetemi sotto nei commenti, hashtag bonus, e so che lo volete, sicuramente arriverà a prescindere, ma se lo volete fatelo. Quindi vedete c'è un po' di roba qua, doctype SVG, l'abbiamo visto più o meno anche in HTML, è più o meno simile ad HTML. Qua comincia il tag SVG e sotto ci sono dei metadati e si comincia a trasformare, si comincia a fare un po' di cose. Ora, il mio obiettivo di questo episodio non è farvi vedere come si fanno le SVG, ma come si inseriscono in HTML. Oppure, possiamo utilizzare SVG, l'elemento SVG. Allora, qual è la differenza? Che qua abbiamo un'immagine SVG che io ho fatto con Photoshop e poi ho convertito online. Probabilmente si può fare anche con Photoshop, però SVG Converter, io per velocità ho scritto SVG Converter, sono entrato qua. Ho caricato, è buona, è ora discaricato. Quindi l'ho fatto con Photoshop, lo potete far così e poi convertite, lo mettete dentro, scegliete height e width e siete a posto. Mentre invece qua dovete disegnarvela voi. Ok, quindi o la disegnate e poi vi fate convertire il codice online e lo mettete qua dentro, oppure se lo sapete fare, per fare un rettangolo non ci vuole molto. Cioè, vedete qua ho aperto un SVG e ho detto quanto la voglio, larga e alta. Dopodiché ho messo un rettangolo, ho detto che il colore lo voglio verde e deve essere, deve matchare la lunghezza e l'altezza del, come si può dire, del container dell'SVG. Ok, quindi questa è l'SVG e qua dentro possiamo mettere un rettangolo, poi posso mettere un cerchio, posso fare altre cose. Però in questo caso ho solo messo un rettangolo e voglio che sia uguale al container SVG. Il risultato è il seguente. Immagine, quindi IMG, SVG. Sono tutte e due SVG, ma questo è elemento SVG e questo è elemento immagine. Vedete che questo posso trascinarlo, questo no. E questo è, punto. Quali sono i pro e i contro delle due cose? Andiamole a vedere. Allora, partiamo dall'immagine. La sintassi è molto semplice. Ok, quindi c'è l'immagine. Buttiamo dentro la nostra SVG e siamo a posto. In più abbiamo l'alt disponibile in caso in cui l'immagine non venga caricata. Insomma, vi avevo già parlato dell'alt. È molto comodo. Un'altra cosa che possiamo fare, è facile aggiungere un link, in realtà anche con l'SVG, però qua se abbiamo un'SVG abbastanza lunga, l'A è qui. Poi abbiamo tonnellate di codice, poi infine A possiamo rischiare di perdercelo. Qua invece è veramente comodo, abbiamo un A qua davanti e poi prendiamo questo A, lo mettiamo qua dietro. Ed è veramente così semplice. Stessa cosa per l'SVG, ma l'SVG potrebbe essere molto più complicata, perciò è difficile da trovarlo. Qua invece lo vedete, è A, I, M, G, A. E questo è. E l'altro vantaggio è che si può cacheare l'immagine. Quindi facendo la cache dell'immagine diventerà più facile, più veloce ricaricare la pagina quando l'utente tornerà sulla nostra pagina web. I contro sono che non possiamo manipolare l'immagine con JS, quindi con JavaScript. E poi qua vi parlo di CSS, prendetemi alla lettera perché non ve l'ho ancora spiegato CSS. Se vogliamo controllare l'immagine con CSS, dobbiamo per forza includere il codice dentro il codice SVG. Quindi molto probabilmente qua dentro. Ok, qua dobbiamo gestire tutto, il che diventa abbastanza fastidioso. Non possiamo farlo dalla nostra pagina e non possiamo nemmeno farlo con file esterni. Altra cosa che non possiamo fare, non possiamo usare le pseudo classi tipo on focus, on over, non le sapete queste cose, però sappiatelo. Che diventa abbastanza complesso gestirle sia con CSS che con JavaScript. Per quanto riguarda l'utilizzo di SVG, allora abbiamo già il codice qua dentro, quindi non dobbiamo scaricare nessuna immagine, quindi i tempi di caricamento sono più veloci. Possiamo assegnare classi e id per utilizzare il CSS, quindi possiamo avere qua id, piuttosto che class, insomma non ve l'ho ancora spiegata, però sapete che possiamo farlo. Di conseguenza possiamo utilizzare anche le pseudo classi, quindi focus, over, eccetera. I contro sono i seguenti. Se utilizziamo l'SVG in un solo posto, va bene, quindi abbiamo questa SVG e siamo in check. Ma ponete il caso in cui questa SVG, anzi, prendiamo questo, ponete il caso in cui noi abbiamo questa stellina SVG per fare le recensioni in tante pagine diverse, ok? Ogni volta noi dobbiamo andare a inserire questo codice. Ma se noi vogliamo cambiare lo stile di quella, lo stile di questa stella, no, e magari togliere le ombre, eccetera, dobbiamo farlo su ogni pagina in cui abbiamo l'SVG, ok? Mentre invece, avendo questo, quindi se io apro l'immagine, facciamo finta che questa sia la stella, supponiamo che questa sia la l'ombreggiatura, la shadow, io la tolgo, automaticamente tutti i file che portano questa immagine è cambiata. Qua invece noi dobbiamo andare in ogni singolo file e cambiarla, quindi non è abbastanza scalabile e non è facile da mantenere. L'SVG, come dicevo, può essere lunga, cioè potremmo avere tanto codice, vedete qua c'è un po' di codice per l'SVG, quindi voi immaginate averne una, averne cinque o avere immagini più complesse, possiamo riempire tranquillamente anche cinquanta, cento righe e comincia a venireci un file abbastanza lungo. L'elemento SVG non può finire nella cache, a riferenza dell'immagine, non può essere cacheato l'elemento SVG, di conseguenza ogni volta va ricaricato. Ci sono elementi di fallback per l'SVG, in caso alcuni browser non le supportino, alcuni vecchi browser non le supportano, però come c'è scritto qui, dobbiamo poi fare dei metodi di fallback che diventano un po' troppo lunghi e complicati semplicemente per mostrare delle SVG su vecchi browser, quindi o usate questo elemento, oppure dite, sapete cosa c'è? Noi i vecchi browser non li supportiamo e lì sono, potete fare due scelte. Quindi questi sono i pro e i contro. Cosa ho fatto io di solito? Io ho avuto modo di usarli tutte e due, se devo usarla singola, di solito faccio l'SVG, e se è abbastanza semplice, dipende, a volte molto spesso uso le immagini, insomma sono pro e contro, dipende da quello che dovete fare e come poi volete mantenere il codice. Non c'è una risposta veramente giusta che io sappia. Quindi, io vi ringrazio per essere rimasti con me, noi ci vediamo al prossimo episodio, siamo quasi alla fine di questo corso, mancano due episodi, credo, e poi ci sarà un bonus, altre cose, io vi ricordo che ho aperto gli abbonamenti sul canale se volete sostenermi direttamente. Vi ringrazio e alla prossima. Ciao ciao!